Ciro, ci siamo con Luigi De Laurentiis, ti faccio mettere, abbiamo il sole in favore di telecamera. Tre nuove maglie al momento, una texture grafica sicuramente avvincente. Come nasce l'idea della Pantera e del Rettile su una camicia, su una maglia da gioco ufficiale? Volevamo sicuramente osare, volevamo trovare qualcosa di diverso. La prima maglia è sicuramente la maglia più importante. Noi abbiamo sempre avuto grande rispetto nella costruzione della percezione ogni anno di una maglia che fosse bella, fosse in linea con i tempi. Io penso che questa maglia, dopo 18 mesi di duro lavoro, rappresenti una grande creatività e originalità. È un qualcosa che spero che il mercato ci dia grande ragione, anche del cuore dei tifosi, che spero impareranno ad amare questo nuovo design. Noi lavoriamo soprattutto su questo, sulla percezione, sull'originalità, sul cercare di essere sempre a passo con i tempi. L'internazionalizzazione del nostro club è sicuramente molto importante. Negli ultimi anni stiamo cercando di creare delle operazioni sempre più grandi. All'estero abbiamo 40 milioni di tifosi, quindi sentiamo una grande responsabilità di parlare anche a loro. Ed ecco perché è nata anche l'idea, che è partita con il primo video della Carbon, di fare questo nuovo video per lanciare le maglie. È un lancio molto più digitale che analogico, proprio per stare a passo con i tempi. Ci ha dato ragione perché in tre ore abbiamo avuto più di mezzo milione di visualizzazioni, quindi è stato ottimo. È anche interessante vederne i commenti che variano a seconda delle piattaforme, a seconda dei target che ci sono. Però è un video che parla a livello internazionale, quindi quello che ci piace è di creare qualcosa che sia di grande qualità e che sia leggibile da tutto il mondo. Il fatto che il Napoli ogni anno praticamente all'interno delle sue maglie abbia un carattere distintivo, ricordo la maglia ginsata, la maglia camouflage, la maglia adesso con la Pantera, quanto aiuta la brandizzazione di una società come il Napoli in crescita anno dopo anno dal punto di vista nazionale ed internazionale? Sicuramente gli dà una grande visibilità. L'altro anno quando abbiamo presentato la Carbon abbiamo ricevuto tanti complimenti anche da altre grandi corporation, quindi sono cose che ci danno un ritorno. Per noi è importante appunto creare continuamente innovazione, farci vedere. Non per niente abbiamo oggi proprio lanciato il primo store, il primo club al mondo ad aprire uno store su Amazon. Quindi voglio dire, noi cerchiamo di costruire qualità e di continuare ad alzare l'assicella della percezione di quello che è il lavoro che svolge questo team, che diventa sempre più internazionale e che parla tutte le lingue del mondo. Luigi, l'ultima perché poi lasciamo andare ovviamente ai tuoi impegni. Quindi un nuovo corso, tre e nuove magliette, anche un nuovo corso in panchina con Carlo Ancelotti, tu che vivi con quella realtà dall'interno. Che idea ti sei fatto, che atmosfera si respira con un allenatore sicuramente di livello internazionale come Ancelotti? C'è una bellissima atmosfera, questo si è percepito. Sai, un nuovo corso, entusiasma un po' tutti. Ci sono nuovi players, c'è un nuovo allenatore che ha questa caratura internazionale. Io penso che l'allenatore precedente ha creato un bellissimo gioco, ci ha internazionalizzato.